Questa mattina siamo a Via Fiorillo, strada ai confini tra Torre del Greco e Ercolano. Raccogliamo la segnalazione e la denuncia dei residenti. Quali sono i problemi di questa strada? Noi principalmente chiediamo di avere maggiore attenzione su questa strada, perché è vera una strada di confine tra due comuni, però importanti perché sono comuni grandi come Torre del Greco e Ercolano, ma è una strada strategica. Perché è strategica? Questa strada ci congiunge col mare, questa strada ci congiunge con le ville vesuviane, come Villa Campolieto, Villa Favorita, gli scavi di Ercolano. Cosa voi denunciate? Denunciamo innanzitutto un decoro bassissimo della strada perché abbiamo praticamente spaziatura per tutto. La strada è impraticabile sia a piedi che con le auto e soprattutto con i motocicli è praticamente impraticabile. In più la sicurezza, qui è pericoloso camminare perché si rischia di essere investiti. La sera soprattutto è una pista veramente vergognoso. Noi non stiamo contestando l'amministrazione, stiamo principalmente chiedendo l'aiuto dell'amministrazione. Chiediamo comunicazione tra i due comuni. Non ci riteniamo una strada di confine, ma ci riteniamo una strada strategica. È una strada strategica, chiediamo maggiore attenzione. E' questo l'appello dei residenti di Via Fiorillo, strada ai confini tra Torre del Greco e Ercolano. Numerose le problematiche esposte dagli abitanti della zona ai microfoni di TV City. Dalla viabilità alla sicurezza, dalla pulizia al decoro urbano. Come testimoniano le immagini, la strada è sporca. Da quanto tempo la strada non viene spazzata? Lo spazzamento non viene proprio assolutamente fatto. Tanto è vero che per ovviare a questa problematica, visto che sentiamo il problema in maniera molto calda e in maniera molto civile, ci stiamo organizzando per fare noi la sostituzione di quello che deve essere lo spazzamento quotidiano. Lo spazzamento non viene mai fatto. Non facciamo parte di quelli che si lamentano soltanto, ma siamo propensi a far mettere in campo tutta una serie di azioni, tra cui anche siamo provvedendo dalla nostra pulizia delle strade. Però voglio dire che non è neanche corretto che questo vada avanti per un lungo periodo. E' pericoloso camminare, denunciano i residenti. Si rischia di essere investiti, specie la sera. La strada è dissestata ed impraticabile, soprattutto per le persone anziane e i bambini. Si tratta di un'arteria di collegamento da Corso Vittorio Emanuele a Viale del Commercio. E' una strada molto molto pericolosa. Questa è una strada importante perché è attraversata tutti i giorni da tantissimi turisti, quindi dovrebbe essere il biglietto da visita per la nostra città. Siamo fiduciosi e siamo a disposizione delle amministrazioni per dare il nostro contributo come società civile. Queste problematiche voi le avete segnalate ai due comuni, Torre e Del Colano? Sì, le segnalazioni sono continue, però non abbiamo avuto ancora degli effetti forti e precisi a riguardo. Il sindaco Buonaiuto, quando fece i complimenti al sindaco Mennella, promise di fare delle azioni congiunte per il migliotore, quindi non ci può essere occasione migliore per intervenire. Naturalmente i disagi principali sono per le persone anziane e anche per i bambini. Io aspetto un bambino, ma ho già un bambino di 4 anni e direi anche è un problema quando porto a passeggiare il cane, molto banalmente, perché comunque è una strada senza marcia a piede e già per questo un po' pericolosa. E poi scansare una busta di spazzatura o comunque stare attenti al buco per non inciampare, comunque non è semplice. Immaginate con un passeggino la situazione veramente diventa complicata. Mai valutata la possibilità di un senso unico? Potrebbe essere una soluzione, però sicuramente sarebbe poi da risistemare anche proprio l'assetto stradale, magari un piccolo marciapiede o anche semplicemente i paletti, in modo da rendere più agevole il percorso pedonale. Qui quante famiglie vivono? Sul Via Fiorillo probabilmente saremo sui 400-500 famiglie. Io personalmente amministro Parco Giussi che solo Parco Giussi conta circa 220 famiglie, nuclei familiari. Quindi considerate che moltiplicando un nucleo familiare medio di 3-4 persone abbiamo solo nel Parco Giussi circa 800-900 cittadini. Lungo la strada non vediamo bidoni, ma la spazzatura dove viene depositata? Per quanto riguarda Torre del Greco, il Comune nell'ultima riorganizzazione del sistema ha richiesto a noi amministratori di concentrare lo sversamento, quindi il deposito dei rifiuti, solo su un lato del Parco, nel mio caso specifico. Quindi il Comune ha richiesto a noi di non sversare più su Via Fiorillo, evitando appunto grandi disagi alla viabilità e al camminamento dei pedoni. Molto spesso è capitato vedere macchine che si fermano lungo la strada e depositano anche ingombranti. Quindi la richiesta nostra di tutti gli abitanti e mia in particolare come amministratore di Parco Giussi è quello che magari le due amministrazioni dovrebbero collaborare per installare delle videotrappole o una videoserveglianza in modo da individuare anche le auto che sversano. Un'ultima cosa che non è però di minore importanza riguarda il sistema fognario che passa per Via Fiorillo. Noi quando abbiamo delle piogge abbondanti la condotta fognaria di Via Fiorillo non riesce a sopportare il flusso di acqua. Insomma i problemi sono tanti, a giudicare anche dalla presenza stamattina dei residenti l'appello è forte. È necessario che le due amministrazioni collaborino tra di loro e si impegnino a o fare un tavolo tecnico dei due uffici tecnici per sistemare la strada oppure appunto ognuno facesse il proprio sulla propria parte di competenza. Grazie a tutti.